Non devo ridere, non devo ridere Ragazzi oggi andremo a vedere i video più divertenti, le animazioni più virali su FNAF's Beauty Bridge Anche detto 5 notti con un orso, violazione di sicurezza Sì! Mi raccomando ragazzi, scrivetemi sotto nei commenti quale animatronico siete E lascio un like e iscrivetevi al canale se non puoi incontrare Sica la gallina mangia pizza Bicicletta con delle seghe circolari? Chi è quel genio che ha voluto fare una bicicletta con le seghe circolari? Ma quanto può essere malvagio una persona così? Visto che ci siamo volevo vedere un attimo che cosa è questa bicicletta a sega circolare No vabbè Ma serve per andare sul ghiaccio, ma così non spacchi il ghiaccio Immaginate utilizzare una bici del genere sul lago di ghiaccio Sento freddo solo a parlarne Andiamo a cercare FNAF Security Bridge Meme! Ce ne sono tantissimi! Vuoi vedere questo? Ciao Gregory! Ehi, guarda la flashlight che ho trovato No, c'è iniziato a ridere! Ma che vuol dire? Quello è stato un assaggino Ma ora andiamo a vedere proprio Prova a non ridere FNAF Security Bridge Animazioni Ciao, Monti! Ah, Freddy! I'm getting on key! Freddy! Questa è prudenza contro Monti! Lasciate un like solo per dargli un paio di occhiali da sole! Freddy! You're supposed to be on lockdown! Shut your mouth, b***h! I'm listening to music! Don't be shy girl, go to the dance I shake my leg belly, dance Eh? Freddy è diventato Charlie D'Amelio? Adesso è diventato un tiktoker? Gregory! La password di Roxy è nella sua stanza, da qualche parte Trova Gregory! You needed to escape Ne hai bisogno per scappare, Gregory There is nowhere to hide Roxy! Chica! I better go take a bath Robots don't take bath, do they? Robot non accettano in bagno Ok Non ho capito Lui doveva andare in bagno Visto che i robot non possono andare in bagno E c'è Monty che in realtà Vai in bagno Non so cosa sto vedendo Però è bello Bello! Quindi anche loro si lavano sotto Bellissimo Freddy? Freddy! Dovresti essere in lockdown! Vanessa! I'm... Scatman! 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 Non so perché ma mi fa morire Freddy quando c'è Vanessa che gli dice che dovrebbe essere Lockdown! FNAF Security Bridge in a nutshell! Shikah in versione Minecraft! Freddy! Freddy in versione Minecraft! Freddata! Prego di breast! .. .. Sì io sto vano Sì però adesso basta Cioè redo Ferbo NO! WHY WOULD YOU DO THAT!? nooo perchè l'hai fatto non devo ridere ma succede quindi questo è l'originale aspetta questo è l'originale davvero ma perchè non ci fanno una canzone su frate net e fanchino prossimo luna ha il tempo possibile peggiore che significa perchè ci sono questi titoli che non riesco a tradurli bene luna quanto è brutta freddy dai ce la puoi fare non è più luna ed è il sole la botta fenomenale non vorrei prendere un pugno davanti neanche per scherzo che botta lasciamo un like e un commento per il povero luna che quando si accende la luce è scopare prossimo vai gregory vedi quella piccola ventola sul pavimento e mi hai sentito parlare among us è tipo among us among us gregory comunque queste animazioni di 5 e 6 3 si sono veramente fatte bene tantissimo c'è chi ha fatto poppy play time per pen up security connection devo vederlo ora ma quanto è bello agi wagi versione monti è roccheggiante è roccheggiante è roccheggiante è roccheggiante è roccheggiante è roccheggiante Ti ce la metti a avere paura di te Freddy Non ti vogliamo incontrare Prossimo Cos'è? Qualcuno ha ricreato L'ufficio di Five Nights at Freddy's Lo voglio Voglio il pupaggio di Cleverock Freddy Mapbot official Ciao per favore prendi una mappa Non la voglio grazie Prossimo Ragazzi mi piacciono un sacco Freddy tu dovresti in lockdown Perché Freddy bullizza Vanessa Povera Vanessa Sta facendo solo il suo dovere Trash Ogni volta questi titoli Mi sconvolgono Devo vederlo Gregory Dove sei? Vuoi le caramelle? No non le voglio Aspetta no Io ho sentito d'ora di pizza Ma dove nella spazzatura? Che schifo Mamma mia che paura Anche gli altri rimangono un pochino esauriti Ma dove l'hai vista la pizza? Ho avuto un po' di paura Poca poca Oh finalmente delle vere animazioni Glammerock Freddy Sweet Up Aspetta ma questo è quello che ha fatto tipo Ma che è un power ranger tutto un colpo Sono diventato un power ranger Ah Niente si è scaricato Non sono più diventato un power ranger E se i finali fossero così Come? No Sto qui Sense Aiuto Non ci sto capendo niente Aiuto Addirittura Povero Freddy Povero Freddy Gregory Adesso è fortissimo Gregory 1990 12 12 11 12 ו000 15 20 Perché così devo andare Va bene, ragazzi Direi che posso anche terminare Il video di oggi qua È stato strano Purtroppo non sto molto bene Ho fatto il vaccino e quindi Oggi sono un po' Però è stato molto divertente E nulla, mi raccomando ragazzi Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto C'è un sacco di pollice in su Qua il vostro lo resiste è tutto E noi ci vediamo ad un prossimo video E... Ciao! Ciao!